Mi occupo delle tematiche di gestione dell'innovazione tra il mondo accademico e quello aziendale e la mia ricerca si focalizza sui meccanismi attraverso cui questo trasferimento tecnologico avviene. Ultimamente ho anche fatto l'analisi su alcuni meccanismi di supporto al trasferimento tecnologico sulla partecipazione delle donne alla produzione dei brevetti ed è emerso dalle studi quantitativi che la presenza di un ufficio di trasferimento tecnologico all'interno dell'università incrementa la partecipazione femminile nella produzione dei brevetti. Pertanto uno dei modi per diminuire il gender gap nella produzione dei brevetti accademici è sicuramente quello di investire a livello universitario nella creazione e sviluppo di tale strutture. Dopo questi primi risultati ho intenzione di focalizzare la mia ricerca su come, con quali modi e strumenti questi uffici di trasferimento tecnologico aiutano la partecipazione delle donne nella produzione dei brevetti. Fare ricerca è bello perché ti dà opportunità di fare un tuo contributo ad un futuro migliore.